Avvocato Sticchi Damiani, quanto conta per un amministrativista specializzarsi in settori di mercato specifici? Io direi che conta molto perché in una fase in cui soprattutto nel diritto amministrativo abbiamo una pluralità di settori sicuramente incompatibili con uno studio approfondito da parte di un operatore del settore in tutti gli ambiti del diritto amministrativo, sicuramente la specializzazione è il futuro ma forse anche il presente perché solo settorializzando a mio avviso si riesce a essere totalmente aggiornati rispetto alla produzione normativa che in questo settore è particolarmente intensa e quindi la specializzazione a mio avviso è il futuro ma anche il presente di questo settore. Grazie Avvocato.